70 i cavalli condotti dai loro cavalieri che hanno al passo percorso le vie di Rivarolo del Re inoltrandosi nella campagna che conduce tramite il percorso degli Arginelli alle incantevoli mura della città di Sabioneta per poi ritornare dopo quattro ore di passeggiata in sella sempre a Rivarolo del Re col pranzo all'oratorio accompagnato dalla musica country. Un momento di condivisione quello del terzo equiraduno del Re organizzato da Sabio Ranch a contatto con cavalli meravigliosi e con la natura ricca dei colori autunnali che caratterizzano il territorio in particolare nel punto di contatto tra Rivarolo del Re e Sabioneta. Sono queste le manifestazioni che così caratterizzano un po' il nostro territorio, natura, rapporto con gli animali, l'equilibrio ambiente animale uomo che va rispettato e tramite queste iniziative si va appunto a sottolineare questi importanti valori che devono essere la base del percorso educativo dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. Quindi ringrazio Sabio Ranch per l'organizzazione, ringrazio tutti i volontari che si rendono sempre disponibili e ringrazio tutti gli sponsor che hanno permesso la manifestazione e per l'anno prossimo siamo già in vista di una nuova edizione ancora più ricca.